Dini forse con una mano, tutto regolare, Ciawinga per Polli, scambiano bene i due attaccanti dell'Inter, Ciawinga mette il turbo, prova a contenerla Tortelli, Ciawinga entra in aria, Ciawinga, la palla sul destro, ancora Ciawinga, prova il destro e arriva il vantaggio dell'Inter, doppietta di Ciawinga, che lascia sul posto tutta la difesa dalla Fiorentina e Fulminas, Schrofenegger dentro l'area piccola. Da centro campo ha messo il turbo, Tortelli ha provato in qualche modo a contenerla, non ha potuto niente, poi dentro l'aria.